Un caro saluto a tutti da Fabiuccio Maggiore, oggi vorrei condividere con voi dei ragionamenti in merito al quesito referendario sul taglio dei parlamentari, se sia corretto votare sì oppure no. Devo essere sincero, votando di pancia, credo distinto, tutti ci troveremmo forse in accordo nel voto del sì. Finalmente abbiamo la possibilità di rivalerci e quindi come forma di rivalsa possiamo tagliare la testa al politico, bellissimo, una cosa, attenzione in maniera figurata, nessuna violenza reale, però in realtà quando invece il pensiero sale alla testa le cose cambiano, la risposta cambia e dobbiamo anche ragionarla, ragionando anche sul contesto che è fondamentale, attenzione. Ora, quando si va a decidere una riduzione del taglio dei parlamentari bisogna capire perché arriviamo a questo punto e chi ha voluto anche che noi arrivassimo a decidere ciò. Sul piano del costo politico che è stata anche una forma di vendita ingannevole che è un mito che abbiamo sfatato anche più e più volte spiegando alla gente che a livello pro capita in poche parole ci stanno offrendo un caffè all'anno a persona, quindi è qualcosa davvero di ridicolo, di irrisorio, quindi inconsistente. Mentre il folletto abbronzato amante delle riproduzioni in acqua sosterrebbe che è un risparmio di 100 milioni all'anno, a mio avviso secondo le stime delle indennità parlamentari e dei rimborsi al netto di quel che rientra all'erario si parla di circa 50 milioni all'anno, quindi anche sono cifre minori rispetto a quelle che in eccesso pompa il folletto abbronzato, beh diciamo che il costo politico è davvero un pretesto, una spiegazione davvero ridicola ed irrazionale, ingannevole, anche perché al folletto abbronzato e anche ad altri mi piacerebbe che loro mi spiegassero le ragioni per le quali non si va a discutere ed ad agire sui reali costi politici che danneggiano una collettività. Quelli che ho spiegato anche durante una discussione di testi di laurea all'interno della Università e della Facoltà di Economia a Pavia, dove ho spiegato, ho illustrato che paghiamo annualmente circa 60, 70, 80 miliardi di interessi passivi sul costo del denaro che noi prendiamo in prestito, perché ci sono persone che ci prestano il denaro, non a me, allo Stato, quindi all'autorità, pensate voi, quindi un'autorità che si subordina ad altri soggetti, ma che autorità è? E ha questi costi reali, effettivi, che poi originano da una forma di arricchimento in debito, se vogliamo, perché è illegittima, è ingiustificata, è immorale questo meccanismo di approvvigionamento finanziario per uno Stato, nazione, si devono sommare anche i rimborsi sui prestiti, cioè la quota capitale che ritorniamo. Parliamo di circa 200 miliardi che rappresenterebbe una forma di costo-opportunità, nel senso che dei danari che potrebbero rimanere in circolo per gli scambi, per livellare i redditi, le pensioni a livelli adeguati, per far sì che la povertà si estingua, si estingua all'interno del territorio italiano, eppure dobbiamo restituire perché non ci appartengono, non sono nostri. Questo è insensato, anche perché viviamo in un regime anche dove la moneta è un simbolo disancorato da valori a aurei a deposito, quindi lo Stato dovrebbe ripristinare le sovranità generali ed in primis quella monetaria con la sovranità mentale però di un popolo, perché ci deve essere un popolo che accompagna questo ripristino di sovranità, e le cose cambierebbero. Quindi, escluso, scusatemi anche per questa parentesi, ma qui ci prendono per i fondelli, dobbiamo anche ricordarle queste cose. Quindi, escluso la pubblicità ingannevole del costo politico, analizziamo se ci sono costi sociali nascosti che invece sono non dichiarati, un po' come quando ci sono i contrattini bancari dove scrivono le letterine minuscole e non si capiscono realmente le clausole e le conseguenze anche di un contratto stipulato. Il costo che si sta facendo invece che emerge è il costo collegato alla rappresentanza, ovvero sia, in altre parole, quando noi andremo a votare, voteremo sì per il taglio dei parlamentari, andremo a ridurre la rappresentanza. Ciò significa che il numero dei politici in rapporto alla popolazione italiana non è neppure così esubero, così in eccesso rispetto ad altri paesi, ad altri governi, ma non ha neppure senso contemplare ad oggi una riduzione, perché ad oggi dovremmo domandarci, ma riducendo la quantità avremo una maggiore qualità governativa? Allora a questo punto il quesito referendario dovrebbe essere così posto, preferite un governo di illuminati, sbarra fulminati, che tanto piace a quei lobbisti, a quelle persone che hanno tirato anche per la realizzazione di questo referendum, pensate anche al piano di rinascita democratica della P2, una loggia massonica deviata, rinomata di Liciogelli e Compagnia Bella, che hanno premeditato una direzione, un indirizzo di controllo in qualche modo sinarchista, autocratico, totalitaristico, a danno della democrazia, ovvero sia del potere del popolo sovrano. Quindi volete quel sistema, quel modello, oppure volete preservare la democrazia, nonostante oggi la democrazia rappresentativa mal funziona, ma prestate attenzione a non confondere il politico, la testa del politico con la sedia o seggia in siciliano, noi chiamiamo seggi le sedie perché il primo Parlamento, uno dei parlamenti più antichi al mondo era quello siciliano e quindi parliamo dei seggi, della seggia, le sedie hanno un valore, le non gettare via l'acqua sporca ed il bambino, cioè il valore col disvalore, è un po' triste come esempio parlato perché rimanda a quella società patriarcale dove prima si faceva nella vasca il bagno, prima il capo famiglia, l'uomo, poi la donna e a seguire i figli, quindi restava loro l'acqua un po' più sporchetta. Quindi non gettiamo via il valore, il bambino col disvalore l'acqua sporca, il valore la sedia perché ha un valore di rappresentanza e non ha nessuna colpa, con il disvalore che è il politico corrotto, inetto. Ma badate bene che non è solamente il problema del personaggio che poi siede e si inchioda col do retano su quella sedia, pensate al folletto al bronzato che ha affermato recentemente che Mario Draghi è un valore per la nazione, cioè un valore colui il quale ha svenduto la nazione, perché dobbiamo ragionare su questi anche passi, cioè sul contesto, ma il disvalore del politico è anche originato da una nostra incapacità, autoanalizziamo la nostra capacità di votare, abbiamo capacità di intendere e di volere, queste sono questioni anche che rimandano al 700 a Jean-Jacques Rousseau che diceva ma qui dobbiamo ripristinare un corpo collettivo che affermi una volontà generale, ma occorre che le persone siano capaci di intendere e di volere quando si recano alle urne. Diversamente il politico non sarà che il rappresentante, il mal rappresentante di una società appiattita culturalmente. Quindi su questi punti di analisi dobbiamo ragionare ed riflettere, cioè andare a ragionare su quello che ne consegue e ne deriva da una riduzione della rappresentanza, perché alla riduzione della rappresentanza cresce una rappresentanza altra che quella elitaria di nicchia del fenomeno lobbista. Il lobbismo che è secolare non nasce oggi anche ai tempi di corte, quei cortigiani, perché la sovranità, la democrazia non esiste nella sua interezza. Ci sono frammenti, noi dobbiamo ripristinare quei frammenti persi, cioè dobbiamo recuperare quei relitti che sono negli abissi della corruzione, dobbiamo ridurre fino ad eliminare ogni defezione politica che origina da corruzione, ma la politica che origina da quelle forze corruttrici, legate al controllo stesso del denaro. E queste sono le cose che dovrebbero portarci ad quindi ragionare insieme. Quindi ripristiniamo questa capacità. Ripristiniamo questo senso. Il lobbista è colui il quale quindi si imprima attraverso gli interessi organizzati, attraverso il capitale e quando si riduce la rappresentanza cittadina accresce questa rappresentanza, accresce anche l'efficientamento del controllo di quei pochi politici rimasti, un po' stile all'americana. Si riduce il rischio di eventuali devianze da dettati perché tu hai il controllo di pochi politici ed è ancora meglio e più agevole da controllare 200-300 politici piuttosto che 600-700-900. E quindi sono cose che dobbiamo riflettere e ragionare. Nel 1946 hanno fatto un atto dalla Federal Regulation of Lobbying Act in America proprio per regolare questo fenomeno che è quello che poi distorce la linea politica democratica perché influenzano i lobbisti. È un fenomeno che si cerca di controllare perché è una linea sottile tra legale e illegale, è una forma anche di corruzione legalizzata perché colui il quale mette il capitale, colui il quale controlla anche il politico stesso. Noi quando c'è stato il caso di Roma Ladrona e della Lega e della poi eliminazione col governo Letta nel 2014, ma nel 2017 dei finanziamenti pubblici ai partiti, perché effettivamente avevano magnato, quindi c'era una immoralità dietro, quindi se non si controllavano i flussi si rischiava di avere delle perdite ingiustificate. Dall'altro lato però c'è una dipendenza, è sorta una dipendenza ancora maggiore dal capitale privato, da chi invece è il lobbista che pressa. Avete presente la Leopolda di Matteo Renzi del Partito Democratico, Plutocratico? Si scrive Democratico, si legge Plutocratico? Beh, ecco, questo è un esempio. Avete presente anche recentemente al Forum Ambrosetti? Ecco, queste sono logiche comunque che rimandano a quella linea di lobbismo, cioè quando l'industriale ha il potere di influenzare il politico e diviene il politico la che dell'industriale e tra le industrie delle industrie, oltre quella militare, farmaceutica e così via, e qui stiamo legando tutto, si sta prendo anche la finestrella del Covid-19 e delle varie società, diciamo dove AstraZeneca, Pfizer e così via, che hanno interessi di profitto ben precisi, si legano altre questioni quindi varie, così anche l'ONG dei flussi migratori fuori controllo. Ecco, tutto quello che riguarda l'industria, il capitale, il profitto, il controllo e il dominio si intraccia nell'industria dell'industria, della industria delle industrie, l'industria del denaro, l'industria di chi fabbrica alla fonte il denaro. Quindi alla fonte di tutto questo analisi, di questo analisi, di quello che significa, implica la riduzione della rappresentanza cittadina. Io vi dico, se voi votate sì, riduscete la quantità, non andrete a crescere la qualità. Se vogliamo accrescere la qualità, iniziamo con una autoanalisi di quello che significa andare a votare. Recuperiamo la capacità di intendere e di volere. Siate quindi uomini liberi e sovrani. Qualcuno mi dice, ma di dove siamo sovrani? Io non sto parlando delle sovranità politiche, economiche, perché lì siamo schiavi. Quando dico per uomini liberi e sovrani, parlo di sovranità mentale, essere coscienti del mondo e dell'ambiente che ci circonda per poter cambiarlo insieme. Un giorno ci ritroveremo allineati, sono certo che ci ritroveremo allineati e lo cambieremo questo mondo. E allora troveremo in quelle sedie persone che lì sederanno perché hanno ogni valore positivo e sentimento politico per sedere in quelle sedie. E quel giorno troveremo quelle persone che realmente avranno il valore, il sentimento politico di servizio del popolo unico sovrano, unico e solo sovrano. E allora diremo grazie alla sedia che ci rappresenta e ci consente anche di avanzare in stanze cittadine e di poter interloquire con persone di valore e non esseri corrotti ed inetti. Per uomini liberi e sovrani, grazie per la vostra attenzione e vi ricordo che non è il like che consente la veicolazione in questo sistema, ma una condivisione di rete, quindi è in vostro potere partire anche da qui. Condividete il messaggio e grazie ancora. Alla prossima! Alla prossima!